Più di mille pagine, raccolte in un unico volume digitale, raccontano la storia del Carnevale di Fano dal 1347 fino ai giorni contemporanei. Si tratta del grande libro storico frutto da anni di ricerca e sviluppo di Enrico Tosi. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di dimostrare non solo il profondo radicamento del Carnevale nella città di Fano, ma anche quale enorme patrimonio di idee sia stato prodotto nel corso del tempo dall'inventiva di un intero popolo che addirittura nel 1450 ha inserito le regole per lo svolgimento della festa nello statuto comunale. Attraverso immagini e testi viene ricostruita una lunga storia sostanzialmente ininterrotta di ben otto secoli. Le ricerche hanno fatto emergere oltre 300 edizioni del Carnevale a partire almeno dal XIV secolo. Recenti documenti hanno però dimostrato l'esistenza di un preciso riferimento al tempo dedicato al Carnevale anche nel secolo precedente. È diviso in tre parti. La prima definita storia antica inizia dal 1347 e si conclude con 1860. La seconda parte, che è quella moderna, dal 1861 al 1940, quando c'è la seconda guerra mondiale. è la parte contemporanea dal 1947 al 2016. La documentazione, quando possibile, cioè molto spesso, è anche riportata in immagine. Per il periodo contemporaneo sono fotografie, prima in bianco e nero e poi a colore. Per i documenti storici c'è la riproduzione fatta con la scansione elettronica oppure con la semplice immagine fotografica. Le immagini sono messe a commento del testo. Il libro è stato consegnato ufficialmente alla città e all'ente carnevalesca. È un importantissimo documento per la città, non solo per il Carnevale, perché attraverso questo grande scritto noi possiamo capire come è cambiata la società anche a livello sociologico, a livello storico. Quindi tra le righe possiamo leggerci veramente un mondo. Quindi ringrazio di cuore il professor Tosi e spero di cuore che presto potremo realizzare il suo sogno, il nostro sogno di poterlo vedere pubblicato.